Sono Luisa Mandelli e siamo qua in mezzo a questa cappella chiamata Santa Cecilia. Tutte le domeniche c'è alle 11 la Santa Messa e anche quando manca qualche ospite si fa la cerimonia qua in chiesa con la Messa. Abbiamo dei frati che vengono ogni domenica da Roseto e facciamo una Messa sempre, anche nelle feste per il primo dell'anno, San Giuseppe, la morte di Giuseppe Verdi, la morte di Toscanini. Tutte queste ricorrenze facciamo Messa. Il pubblico e gli ospiti ne sono molto contenti perché trovano una funzione dentro nel loro istituto e sono comodi ad ascoltare e pregare. Io lo faccio con grande amore perché la chiesa, io da ragazza ho sempre manifestato questa gioia e sono sempre stata all'oratorio, sono sempre andata con le suore, con tutto. E' ancora oggi, che sono vecchia, ma però vado ancora. E così ho preso questa passione e tengo per bene tutte le manifestazioni, i colori della chiesa, le tovaglie, tutto quello che occorre perché deve funzionare bene. Io avevo una voce da soprano e sono entrata alla scala nel 1952 e sono stata subito scrittorata e sono stata lì a quasi 15 anni e ho fatto tanti ruoli con primaria. E ho avuto l'onore e il piacere e la gioia di cantare con Maria Callas nel 1955 nella famosa traviata di Lucchino Visconti. E' stata una traviata eccezionale che ancora oggi ricordiamo. E' stata una cosa bella e di questo ne sono fiera, contenta, perché devo dire che questo fatto che io ho cantato con la Callas mi ha dato tante soddisfazioni, tante, 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 sì. E penso che la Callas d'altro mondo vi aiuta, questo ne sono sicura, sì. Perché poi io tutti gli anni faccio dire alla Callas una messa al 16 settembre quando lei si è spenta. Viva Maria Callas.